A tua disposizione, subito, sempre. Da più di 40 anni, Bugnon è fra i leader italiani ed europei nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale. Sappiamo individuare, tutelare e valorizzare le tue idee. I segni distintivi come il marchio, la denominazione sociale, l'insegna, il nome a dominio. E i risultati della ricerca, dell'innovazione nella meccanica, nell'elettronica, nell'informatica, nella chimica. I brevetti per invenzione, i modelli industriali, i processi produttivi innovativi, i disegni, il know-how, il software, il diritto d'autore. Garantiamo la massima competenza, esperienza e professionalità. Consulenti abilitati, mandatari italiani ed europei, legali e specializzati in diritto industriale. Siamo a Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Udine, Varese, Verona. Siamo a Bologna, Bologna, Parma, Reggio Emilia.